Lazio, la formazione anti-Milan e ecco le idee di Sarri. Roma la Lazio dei titolarissimi pronta a sfidare il Milan martedì sera. In ballo c'è un posto Champions e punti importanti per rimanere in scia delle altre big. Maurizio Sarri alla vigilia del match ha già la formazione tipo in testa. Dopo l'apparizione di Maximiano in Coppa Italia. Tra i pali toccherà di nuovo a Provedel. E la difesa non si discute, Patrick è tornato in forma. Gila ad allenarsi. Ma all'Olimpico dal primo minuto ci saranno sempre Lazzari. Casale, Romagnoli e Marusic. Nessun subio per Sarri a centrocampo il tecnico non rinuncerà a Luis Alberto. Diventato il vero acquisto di gennaio. Con lui sicuri di un posto ci sono Kataldi e Milinkovic. Nelle settimane scorse il ballottaggio era sempre tra il Mago, Vecino e Basic. Al momento nessun dubbio con gli ultimi due scalati nelle gerarchie. In attacco, senza immobile, Felipe Anderson sempre confermato falso 9. Con lui Zaccagni, bomber come Ciro acquata 7 gol, e Pedro. Questa la Lazio che affronterà il Milan salvo sorprese. 11 in campo più un olimpico pieno. Virgola.